bella a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro mister 4pix 97 oggi siamo qui ritornati su batman arkamasalium ok ragazzi l'ultima volta ero morto come un coglione ecco ma perchè io ero morto così e adesso mi rifarò ripardonare allora c'era questo che non ci potevamo fare niente quindi io mi arrabbricherei qui sinceramente ragazzi non ricordo più i comandi come sono quindi cercherò di fare le cose molto più molto più ben fatte possibili oh ma guarda come trattano i pazienti anche se sono pazzo comunque andiamo qua nel gargoyle come si faceva la visione io me la sono dimenticata z no x ok ok solo 1 2 3 4 e 5 nemici rilevati 5 armati 5 patita al minuti calmo allora questi qua me li devo fare assolutamente lo devo fare assolutamente ok non mi ha visto nessuno non mi ha visto nessuno che cosa no 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 ok andiamo andiamo porca puttana sto pezzo qua me lo sono dimenticato ok no mio dio mi ammazzano ragazzi mi ammazzano mi ammazzano inutile ok ma se tipo provassi mente sono morto ok ragazzi ho trovato un altro condotto proprio così alla random vediamo dove portano questi condotti così magari lo vediamo ok se io vado di qua apri cos'è apri ah è un tombino vediamo voglio provare ragazzi perché magari per renderci le cose molto più facile vediamo perché sono 5 armate come cazzo le ammazzo tutti ok che cazzo è sta cosa vabbè apri apri non c'è nessuno eh laggo un pochino ragazzi perché da quello che ho visto quando tu scarico una cosa su google chrome e ti consuma 700 megabit di di memoria ram quindi non mi conviene tanto ok ok qui non c'è nessuno benissimo si 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 ho visto ok andiamo qua oh mio dio non ti prego ok ti devo aprire sempre ti ne prego che non è così forte ok come si fa già per vedere c'era un modo per vedere la destinazione dove dovevo andare mi hanno dimenticato turtola ok ok andiamo spero che sia la via giusta non voglio oh mio dio 20 no tu non mi dire tu non mi dire che tutto questo era per il trofeo dell'inichimista non me ne frega un cazzo del trofeo dell'inichimista ma che cazzo porca puttana no oddio tanto non volevo farvi vedere questo ragazzi volevo andare direttamente alla prossima missione non c'è magari qualche porta qua facciamo una cosa ragazzi io cerco nel mentre aspettate un minuto qui c'è qualcosa non posso abbandonare non posso abbandonare non posso abbandonare ah devo salvare superstiti ah guardate questo mi sto sperando spargliatevi no 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 oh mio dio oh mio dio ragazzi allora qui la cosa stelle deve ok sono nello stesso punto di prima ok allora devo vedere una cosa ok che cazzo è andato ok allora vediamo se questo viene qua voglio vedere se questo viene vediamo eh un minuto ragazzi ok ragazzi ci sono riuscito non passate tutti è stato difficile perché questi bastanti davanti che si muovevano ci mettevano tre millenni per farlo quindi andiamo qua e vai davanti cazzo ok va ok andiamo buonasera signora prego mi dica niente non ve ne dice niente non so che cosa sia successo oh sì stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza e ci hanno catturati c'era qualcuno con loro hanno portato qualcuno in ascensore ma non so chi sia è chiaro che non volevano essere seguiti l'ascensore è stato disattivato qui non correte pericoli andrà tutto bene e gli altri? abbiamo sentito degli spari potrebbero essere morti andiamo ad aiutarli oh no dimenticavo il dottor Kellerman era in sala osservazione il dottor Chen è andato in chirurgia e la dottoressa Yang è andata in radiologia ok restate qui vado a cercare gli altri dottori ci ha salvati Batman ok andiamo andiamo va vediamo se era abito non laggare era di qua tab lo ho aggiunto alla map ok devo andare là non è questa la strada vabbè vi ci porto dai allora si prende di qua poi si va qui sotto andiamo vedi che lì sono uscito da quel tombino prima ragazzi andiamo qua e prima ad esempio non si poteva uscire perché diceva non posso abbandonarle andiamo abbandoniamole ok ok a momenti del lag così così ok ok andiamo ok affanculo silenzio ok ho passato vorrei patto ma non andiamo paramparaparaparaparaparaparaparapedeuma bello ok ok andiamo fatti sotto bastardo no no No, no, ok andiamo, ok andiamo, mori, mori, vai, vai, ok fatto, non so perché so zitto mentre che il laggio è basarango, forse mi sto concentrando, beh, vabbè, io tu che calo di FPS, porca, facciamo così, facciamo spostare tutto in due, ok, tutto in due dovrebbe essere a morte, No, per favore, no, no, dove sei, guarda qua, ragazza non c'è più il lag, guardate, parlami, ora sempre con il teco, anche io, vai Che cosa succede? Parlavano come se fossero loro a comandare, è vero che Joker è scappato? Purtroppo sì, ma non per molto Sono mesi che studio il caso di Joker, dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale Questa è la minore delle sue, oddio, stavo per dimenticarmene, hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori Non si preoccupi, adesso è sicuro posso andare a controllare le altre stanze, aspetti qui, è troppo pericoloso Ah, qui c'è la Vabbè, siamo un mappo obiettivo E noi siamo qua, ah, dobbiamo controllare le altre stanze, quindi Si proventiamo di nuovo partita Vabbè Facciamo una cosa ragazzi, io vi li porto direttamente alla sede, magari viene un poco più lungo e viene anche noioso Vabbè, è poco stile anche qua, non è che vi conferrebbe tanto guardarli Quindi ci vediamo tra poco, bella Ok ragazzi, controlliamo questa stanza Prima andiamo qua Anche se c'è ancora molto stato da fare Però La voglio controllare insieme a voi Perché siamo già arrivati insurgiti Sarebbe sala operatore Buonasera signora Quello devo passare, prego Succederà qualche cosa? Sicuro Dove cosa è lui? Ok Non parli, adesso è al sicuro Ma è una trappola Lo so Ma non per me Eh, lo sapevo Joker TV La TV si è fatta fare Va Va Ok dai, andiamo Ok Vai Che bellissimo Bellissimo come è compatto Guardate qua com'è No Dove è stato L'ho fatto in ritardo Ok Vai a me Ok No Ok Vai Bene Vai 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 Ok Vai Ok La faccio vedere sul compattimento Perché è bellissimo Bellissimo Ok vai 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 Ok vai Ma no no Ok vai 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 ma non riuscivo a parlare tranquillo adesso se non vedevo morire stronti due delinquenti ok ora andiamo nella stanza che sarebbe prima di questo corrido che abbiamo fatto prima quindi non ci venire che ve lo taglio direttamente ci andiamo subito adesso e basta con ste cazzo di regale joker c'era un tubo per un spiega dell'enichimista mi sembra vabbè andiamo mavola festa bastardo madonna eh scusa ok eh ok lo godo ragazzi ok no di qua vai apri posso fare doppio k o ok no ma che è qui ma che sei brutto che peggio di balotelli sei è peggio di balotelli porca puttana no che cosa è successo ah ecco ecco andiamo andiamo bravo volpix che c'è che fuoco di volpix nessuno scusate andiamo andiamo no oh mio dio ok si l'ho fatto via vai piano 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 ah fatezza guarda che questo è perfetto forse per confonderli ok quindi mi confonderò ma che non posso fare niente ah ho capito quindi cosa faccio allora ragazzi sicuramente ve lo taglierò perché è possibile sta cosa e credo che non posso neanche dall'età detective amici rilevati uno armati zero ok ho capito ma io come ci vado allora ci rivediamo tra poco quindi mentre spezzano qua ragazzi bella ok ragazzi in pratica dovevo spezzare sta cazzo di corda lo faccio con voi ok te salvo amico bella ok ragazzi c'è il generatore qua eccolo fatto devo aver disattivato ok sei andato benissimo benissimo ok ragazzi ma io sono un coglione perché non ho pensato neanche a planarci no 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 vai di nuovo qua vai di nuovo qua un posto non ho fatto tornare sopra perchè perché tipo in pratica l'ho passato il livello e quindi ok così dovrei fare tipo così da qui dovrei riuscire tramite il comando a vedere se c'è un altro eccolo la ecco qua ok vai 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 calate 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 a poco ma ancora non si è fatto tutto posso sembra andare qua e e vai ecco lo l'altro non si ha neanche visione notturna avi ok Scappate Sennò se viene a giocare Vi fa il culo Adesso parliamo con questo qua Non dovevo andarmene Dalla terapia intensiva Se fosse rimasto quel mostro Eh purtroppo Nella vita facciamo tutti sbagli Tu Vabbè Venga a pensarci E vabbè 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 qui da dove sono Da dove sono uscito prima Vabbè ragazzi Io direi che il video di oggi Può anche finire qua Spero che vi sia piaciuto Se il video è venuto corto Scusate ma ancora Ma è da 33 minuti Che sto registrando Quindi Tanta colpa Non è che ne ho Io lo faccio per voi E spero che questo Magari lo capiate Quindi pollicello Su commentate Contividete il video Se vi va E noi ci vediamo Il prossimo video Da forse MrFolpix97 Prima l'ho detto piano Perché ho sentito il rumore La pensavo Che fosse successo Qualche cosa Bella ragazzi Ciao